Vince il premio Marco Aurelio della giuria al miglior film Kill Me Please! Signor de Manet, vede la mia clinica. È una clinica che certo accompagna i pazienti nel suicidio. Oggi è il grande giorno. Ci diremo addio. E lei non verrà più a chiedermi come mi sento oggi. Non sapevo ci fosse una clinica così. Sono pronto da quando avevo sette anni. Mi piacerebbe, in verità, come ultimo desiderio, poter cantare la marsigliese. Non ha le palle per suicidare uno famoso. Mi dispiace, your wife è morta da tanto? Ma non è morta. Hai... l'ho persa a una partita di poker. Venga, c'è un incendio! Ma non avete dei termos, qualcosa di caldo? È morto. Almeno non è morto di freddo. Non sapevo che si potesse morire bruciati. E beh, mi piacerebbe come... Insomma, se ci si può iscrivere, ecco. L'unica cosa che voglio è essere il primo persona morto oggi, ok? Io ero qui prima di lei. Voglio morire prima di lei. Evitate di stringere amicizia con i pazienti. Compassione sì, Amicizia no. Qu'un sang impur Abreuve nos sillons Grazie a tutti. Grazie a tutti.